Il corso è sicuramente interessante, quello che abbiamo fatto in aula. L'interessante è trovare e scovare dei parallelismi tra quello che è il mondo dell'impresa e lo sport in generale. Soprattutto in questo momento in cui tutto si basa su una sfida e sulla competitività. L'interessante è capire come ci diceva il maestro che la vittoria non sta nell'essere il numero uno, ma riuscire a raggiungere il risultato migliore di cui noi siamo capaci. Per cui, tradotto nel lavoro, vuol dire riuscire a tirare fuori il meglio di noi stessi. L'interessante è un modo nuovo di affrontare il concetto di incrementare le capacità del team. Poi lo sport è sicuramente interessante, è un'esperienza nuova e da questa giornata può scaturire magari una vera passione per questo sport. Per il lavoro sicuramente. Grazie. Buona, soprattutto per unire la formazione, il concetto di team e unire una giornata di sport. Grazie. Come lo sport e formazione mi sembra molto azzeccato, anche quest'idea del golf è ancora più azzeccata, perché chiaramente è uno sport molto tecnico dove bisogna allenarsi molto, applicarsi molto, e quindi l'idea era positiva. Le conclusioni ne stiamo per trarre, però io sono già contento. Interessante, pure io ho imparato qualcosina di queste giornate, mi ha fatto piacere avere queste persone che avevano una voglia o curiosità per sapere cosa è il golf. E penso che è stata una giornata molto produttiva, di grandi successi. Grazie. È una giornata molto divertente, insolita questo abbinamento tra golf e concessione aziendale, quindi veramente interessante e complimenti a Assoform per aver avuto quest'idea di questo colloquio. Grazie a Assoform.